Il timore è di sprecare un'opportunità decisiva per l'economia del territorio, con un effetto negativo a cascata sull'intero sistema di trasporto regionale. Il deputato del PD Piero De Luca e il presidente dell'aeroporto di Salerno Antonio Ferraro lanciano l'allarme sui ritardi nel rilascio della concessione al Costa d'Amalfi, indispensabile per poter pubblicare il bando e non perdere le decine di milioni di euro già stanziate. I tempi diventano sempre più stretti e io e tutti quanti noi siamo profondamente preoccupati e questa è la ragione per la quale ho ritenuto necessario presentare una interrogazione al presidente del consiglio, al ministro dei trasporti e al ministro dell'economia la settimana scorsa per capire lo stato dell'arte della procedura relativa all'aeroporto di Salerno. Le pratiche e tutte le procedure sono ancora l'ingiacenza sui tavoli dei due ministeri che devono adottare un decreto congiunto per rilasciare la concessione totale all'aeroporto di Salerno. Il quale dopo la fusione con GESAC potrà finalmente partire con la piena operatività. Devono sbrigarsi, non possiamo più ammettere ulteriori ritardi, peraltro ingiustificati sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico-finanziario. Non ci sono alcuni motivi tecnici o economici affinché possa essere messa in discussione la concessione totale. I numeri che sono stati elaborati non da noi ma da società specializzate come la One Work traguardano su 17 milioni il numero di passeggeri che possono essere raggiunti. 5 da Salerno e 12 da Napoli, il che significa una crescita ancora forte e vigorosa per l'aeroporto di Capodichina.